Con Diego Dionoro ci occupiamo di una squadra di calcio interamente composta da commercialisti. Vediamo. Si allenano nei ritagli di tempo, nelle pause dal lavoro, ma lo spirito è quello agonistico. I commercialisti di Napoli hanno portato a casa lo scudetto del campionato nazionale di calcio organizzato dalla loro categoria. In panchina Antonio Carannante, ex giocatore che con il Napoli di Maradona vinse il primo scudetto nell'87. Com'è allenare una squadra di commercialisti? Guarda, è stata una bellissima esperienza perché poi hai a che fare con persone grandi, professionisti dove ti seguono, che poi diventano come i bambini, veramente si impegnano. A bordo campo saltuariamente anche Ugo Maradona, fratello del Pipe de Oro, mentre non gioca ma segue attentamente i progressi della squadra, il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Napoli, Vincenzo Moretta, super tifoso degli Azzurri. Come categoria avete a che fare ogni giorno con i numeri? Secondo lei il Napoli ha i numeri per fare un buon campionato quest'anno? Beh, sicuramente tutto è nato sotto i migliori auspici. Ritengo che il Napoli, il grande della grande squadra, ha tutti i numeri, ha tutti i presupposti per poter arrivare al risultato che da tempo aspettiamo.